bella a tutti ragazzi io sono valerio io sono francesco e questo video è stato fatto solo per dirvi che praticamente tutto agosto noi non faremo video non faremo video sia perché non ci siamo e sia anche perché non c'è il cuore della nuova quindi riempiremo tutto luglio che avete visto penso e poi niente voi ci rivediamo a settembre quindi non abbiamo nient'altro da dirvi e ci vediamo quindi a settembre ai primi di settembre con tanti nuovi video novità